Salve, oggi vi presentiamo un esperimento che consiste nell'estrazione del DNA da campioni biologici. Abbiamo scelto delle fragole perché sono riducibili facilmente in portiglia. I nostri utensili sono due scodelline in acciaio, delle fragole, un termometro dell'alcol etilico, due siringhe, una da 5 millilitri e una da 10, un bicchiere stretto e lungo, un colino da circa 14 centimetri di diametro, due garze o in alternativa dei fazzolettini di carta, del succo di ananas, una provetta, una bilancia degli stuzzicadenti, del detersivo per piatti, del sale, due bicchieri e dei cubetti di ghiaccio. Prima di iniziare il nostro esperimento dobbiamo porre in frigorifero circa 5 millilitri di alcol etilico, in congelatore dei cubetti di ghiaccio e nella scodellina dobbiamo porre dell'acqua da importare circa in 15 minuti a 60 gradi, quindi fino al raggiungimento del bagno maria. Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione!